Trucco bambini con i segni zodiacali, il leone! Sua maestà il leone è un segno di fuoco. I leoni sono passionali e sanno amare con tutto il cuore. Una cosa da non dire mai a un leone è non sei mica il centro del mondo! Cosa? Perché sua maestà è il centro del mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo segno e seguitemi per altri segni zodiacali. Grazie a tutti!